Commercio abusivo, occupazione di demanio pubblico, furti, detenzione di sostanze stupefacenti, reati in questi giorni d'estate contro i quali le forze dell'ordine stanno effettuando un'imponente attività di contrasto e repressione, come quella predisposta dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce e che nelle scorse ore ha portato ad arresti e denunce. Mandiamo con ordine. A Porto Cesario i militari nel corso di un controllo finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale hanno arrestato, in collaborazione col personale della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, due cittadini originari del Marocco e denunciato un terzo connazionale per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità e ostacolato le operazioni di censimento del materiale in loro possesso. I tre sono stati trovati in possesso di merce per un valore complessivo di 20.000 euro, merce che alla vista delle forze dell'ordine hanno tentato di nascondere tra gli ombrelloni di alcuni bagnanti presenti nel tratto di spiaggia in località Torre Chianca. I militari hanno inoltre liberato 50 metri quadri di spiaggia occupata abusivamente. A Torre Lapillo invece i carabinieri sono intervenuti per sedare una furibonda lite scoppiata tra due extracomunitari che si contendevano una porzione di spiaggia per la vendita di capi d'abbigliamento e gonfiabili. Nella colluttazione uno di questi ha rimediato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. I due ma anche un terzo connazionale che vendeva abusivamente sono stati denunciati oltre che per lesioni anche per occupazione di demanio pubblico. La merce per un valore di 8.000 euro è stata invece sequestrata. Nel corso dei controlli lungo il litorale ionico inoltre i carabinieri del normo di Gallipoli unitamente ai colleghi del battaglione Calabria hanno deferito all'autorità giudiziaria sei giovani per resistenza pubblico ufficiale e per non aver voluto sottoporsi all'alcol test. Più di 90 le vetture e 190 gli automobilisti controllati con numerose violazioni al codice della strada riscontrate. A Melendugno inoltre denunciato un giovane scoperto a coltivare in casa marijuana. A Torre dell'Orso infine i carabinieri hanno denunciato un cinquantenne che in un tratto di spiaggia libera aveva rubato un portafoglio dalla borsa di un bagnante.